I sogni dei nostri amici a quattro zampe. Hai mai notato il tuo cane muoversi o fare suoni durante il sonno? Non sono solo movimenti casuali, ma probabilmente il tuo amico peloso sta sognando. Proprio come noi, i cani attraversano fasi di sonno che includono la fase REM, il momento clou dei sogni. Gli studi scientifici hanno dimostrato che i cani, durante il sonno, seguono un ciclo simile a agli esseri umani. Nel momento in cui il tuo cane raggiunge la fase REM, il suo cervello è incredibilmente attivo e le sue esperienze quotidiane riaffiorano sotto forma di sogni vivaci. Osservare il tuo cane mentre sogna può essere un'esperienza affascinante e divertente. Potresti vedere le sue zampe muoversi come se stesse correndo o sentire piccoli guaiti e latrati. Questi sono segni che il tuo cane sta vivendo un'avventura onirica. I sogni non sono solo un fenomeno interessante, ma svolgono un ruolo importante nella vita dei cani. Attraverso i sogni, i cani elaborano le esperienze vissute durante il giorno, e le sue abilità e comportamenti appresi. I sogni dei cani sono simili a quelli umani in molti aspetti. Proprio come le persone sognano situazioni e scenari tratti dalla loro vita quotidiana, anche i cani rivivono momenti significativi delle loro giornate, come giochi o momenti di affetto condivisi con i loro proprietari. Mentre non possiamo sapere con esattezza cosa sognano i cani, è probabile che i sogni riflettano le loro attività preferite, come correre, giocare, inseguire o persino interagire con i loro umani preferiti. Questi sogni mostrano quanto sia ricca e varia la loro vita interiore. Assicurare al tuo cane un ambiente di riposo sicuro e tranquillo è fondamentale per i suoi sogni. Un letto comodo e una dieta bilanciata sono essenziali. Ridurre lo stress e monitorare la salute del tuo cane contribuirà a un sonno sereno e ristoratore, favorendo sogni piacevoli. Sognare non è solo bello, offre benefici concreti. Attraverso i sogni i cani possono rafforzare la loro memoria e perfezionare le abilità. Le esperienze oniriche aiutano nel consolidamento delle nuove informazioni, promuovendo un apprendimento migliore e un comportamento equilibrato. La personalità del tuo cane può influenzare i suoi sogni. Cani più attivi e avventurosi potrebbero avere sogni dinamici e vivaci, mentre quelli più tranquilli potrebbero sognare situazioni più calme. Osservando i sogni del tuo cane potresti scoprire indizi sulla sua personalità e le sue preferenze. Decifrare i segnali onirici del tuo cane può essere difficile, ma esaminando i movimenti e le vocalizzazioni può intuire cosa potrebbe sognare. Zampe che si muovono suggeriscono un sogno in cui corre, mentre piccoli guaiti o ringhi possono indicare un'interazione con altri cani o umani. La ricerca sui sogni canini è ancora in corso, ma sappiamo già che i cuccioli e i cani anziani sognano di più rispetto agli adulti. I cuccioli, in particolare, usano i sogni per assimilare nuove informazioni e abilità apprese durante la fase di crescita e sviluppo. Ogni cane vive un universo onirico unico e personale. Proprio come noi possono avere sogni piacevoli o incubi. Offrire comfort e sicurezza al tuo cane è essenziale per aiutarlo ad affrontare qualsiasi esperienza negativa nei suoi sogni. Il gioco stimola la mente del tuo cane e può influenzare positivamente i suoi sogni. Attività interattive, come giochi di recupero o sessioni di addestramento, possono arricchire l'esperienza onirica del tuo cane, mantenendo viva la sua attività mentale e fisica. La prossima volta che il tuo cane si rilassa per un pisolino, prenditi un momento per osservare e immaginare le avventure che potrebbe vivere nel suo mondo onirico. Considera quanto è straordinario condividere la tua vita con un amico a quattro zampe che sogna proprio come te. Se hai scoperto quanto i sogni canini siano affascinanti, condividi questo video con altri amanti dei cani. Segui il nostro canale per esplorare insieme il meraviglioso mondo dei nostri pelosi amici. Lascia un commento raccontando un momento in cui hai sorpreso il tuo cane. Sognare! Sognare! Sognare!